In questo momento di emergenza sanitaria internazionale italiana, anche la nostra provincia di Alessandria è stata duramente colpita. Servono dei dispositivi donei per la protezione degli operatori sanitari, mascherine, visor, guanti. Servono anche macchinari specifici per i pazienti più gravemente colpiti dal coronavirus, che necessitano di cure urgenti, necessitano di respiratori e di caschi appositi. Grazie al nostro contributo possiamo aiutare i pazienti, possiamo aiutare gli operatori sanitari in prima linea. Aiutiamo quindi insieme tutte queste persone che sono state affette dal coronavirus o che stanno aiutando i pazienti affetti ad essere salvati. Per farlo occorre aiutare gli ospedali della provincia di Alessandria, all'ospedale di Alessandria, di Tortona, di Novi, di Acqui e di Ovada. Lo possiamo fare attraverso una raccolta fondi che è stata lanciata dalla Fondazione Solidale insieme a Fondazione Cassa di Resparmio di Alessandria, azienda ospedaliera di Alessandria e Asla. Per farlo possiamo adottare due metodi, andare direttamente sul sito della Fondazione Solidale e basta un clic, oppure fare un bonifico bancario sul Liban indicato dalla Fondazione Solidale. Insieme possiamo farcela, insieme possiamo sconfiggerlo.